e siamo al momento sacro dello spiritual festival scienza e spirito moon shaman reis nome chamanico organizzatrice e claudio de matteis e indio la mia anima sacra alleate collega oggi e durante lo spiritual festival enrico ballugani soul voice noi dedichiamo a voi un grande canto di ringraziamento di accoglienza e ringraziamo lo spirito del luogo un bel canto di ringraziamento 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 del luogo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.